La Polizia di Stato, a seguito di una serata attività di indagine condotta dalla squadra mobile di Imperia nell'ambito del traffico e detenzione illegale di armi, ha arrestato un uomo di 45 anni. Il 45enne, la notte di Capodanno, a Verezzo, aveva festeggiato sparando colpi di pistola in aria. La zona è stata quindi posta sotto sorveglianza dalla Polizia ed è stato così individuato l'uomo, già noto alle forze dell'ordine. La sua abitazione è stata perquisita e sono stati trovati 12 grammi di cocaina, un grammo di marijuana, 260 euro in contanti, bilancini di precisione e in un nascondiglio nel controsoffitto una pistola semiautomatica 765 con munizioni detenuta illegalmente. L'arrestato è stato prima portato nel carcere di Imperia e in seguito il giudice ne ha disposto gli arresti domiciliari.